allora in questa breve scheda oggi parliamo della pulizia del sistema di alimentazione di una stilografica nella scheda precedente abbiamo dato un escursus ma si dai stasilo grafica la dovete mettere sotto lavandino e la lavate così questo per riassumere quanto è stato detto precedentemente ma è veramente così una delle operazioni di manutenzione più comuni è proprio quella del lavaggio con acqua del pennino e degli interni della penna che è stata già esaminata nella scheda precedente nel video precedente in questo video tratteremo la pulizia del sistema di alimentazione per ovviare ad occlusioni o intasamenti che possono essere presenti su una penna vintage antica o non usata per tempi molto lunghi in questo caso l'operazione più difficile da realizzare è proprio quella relativa al lavaggio alla pulizia dell'alimentatore che per essere completo dovrebbe comportare lo smontaggio dell'intera sezione quindi alimentatore e pennino e la pulitura approfondita di ciascuno di essi in tal caso oltre ad immergerli in acqua sarà possibile anche effettuare una pulizia meccanica con uno scovalino uno spazzolino morbido o cose simili trattandosi però di un'operazione delicata e complessa specie nel rimontaggio attenzione perché spontanea stilografica spesso può anche essere semplice rimettere tutto a posto per un neofita può diventare un problema quindi questa operazione è da evitare assolutamente nella manutenzione ordinaria e va messa in atto solo come estrema razio negli altri casi qualora i metodi descritti non diano i risultati soddisfacenti inoltre quasi sempre sono proprio le incrustazioni in chiostra rendere difficile lo smontaggio delle parti quindi forzare fin dall'inizio potrebbe esporre il rischio di una rottura delle componenti mentre eseguire le operazioni qui descritte faciliterebbe comunque anche un successivo smontaggio in tutti i casi occorre comunque partire da un normale lavaggio che è sempre il primo punto di partenza di qualunque operazione di pulizia della penna in caso di ostruzioni o occlusioni in genere il tempo di ammollo è molto più lungo che per un semplice lavaggio per cui si consiglia sempre di immergere solo la punta della penna evitando l'immersione totale utilizzando un opportuno contenitore che consenta di mantenerla dritta alcuni materiali infatti se immersi a lungo possono risentire di effetti non positivi in particolare le banite ossidata tende a ingiallirsi in maniera molto evidente in presenza di immersioni prolungate probabilmente per via del cloro mentre la galalite si rovina completamente anche in breve tempo quindi penne antiche attenzione dovete capire di che cosa è fatta una stilografica prima di procedere inoltre le parti metalliche interne possono ossidarsi qualora sia facilmente smontabile si provveda a staccare la sezione con tutto il pennino e a immergerla completamente per quanto riguarda la temperatura dell'acqua e l'uso di detersivi vale quanto già detto nel video precedente per velocizzare le operazioni per evitare di tenere in ammollo parti che non ne avrebbero bisogno come l'esterno della sezione è possibile qualora il retro della stessa sia raggiungibile cosa sempre vera in caso di caricamento a cartuccia usare un minimo di attrezzatura che consenta di inviare acqua a pressione attraverso l'alimentatore la cosa si può fare o mettendo la sezione sotto direttamente sotto rubinetto oppure in pratica caricando e scaricando invece che utilizzando l'inchiostro utilizzando anche un semplice converter invece di caricare scaricare l'inchiostro caricate scaricate l'acqua dentro al rubinetto dentro al lavandino con un po d'acqua tiepida non calda mi raccomando un esempio si indica si possono usare anche delle perette per far passare un flusso d'acqua attraverso la sezione l'alimentatore di una penna questo tipo di operazione consente la rimozione del grosso dei residui di inchiostro presenti nel condotto ma soprattutto consente di verificare che non siano presenti otturazioni o tasamenti se questi sono presenti si abbia cura di ripetere l'immersione per ammorbidirli il più possibile nella maggior parte dei casi la pressione applicata è sufficiente per rimuoverli in caso di sospetto di occlusione si consiglia di procedere sempre a un'operazione di flussaggio a scopo di verifica al di là delle parole l'acqua dovrebbe sciogliere tutto un minimo di pressione dell'acqua io ci soffio anche dentro a una stilografica dal lo diventa non dalla parte del pennino quindi mettendo l'acqua e poi soffi vedi che anche lì comunque ottieni un risultato allora ci sono anche alcune apparecchiature autocostruite dai dagli appassionati che costano anche poco che permettono di semplificare l'esecuzione di un lavaggio veloce del canale di alimentazione l'adattatore per penne a cartuccia si ottiene asportando il fondo di una cartuccia con un trincetto e un paio di forbici così allargate utilizzando una cartuccia diciamo senza il fondo anche quella aiuta può aiutare sotto al rubinetto no penetra più acqua per le penne non a cartuccia la peretta funziona altrettanto bene la punta conica in gomma si adatta bene a quasi tutte le sezioni operando dal retro dell'alimentatore e può essere utilizzata in maniera generica anche per penne non a cartuccia si tenga presente che questo tipo di attrezzature adatto per un lavaggio sommario veloce che consenta di togliere il grosso dell'inchiostro quando non sono presenti otturazioni particolarmente resistenti se l'eclusione eccessiva il flusso non passa posto che il materiale sia resistente allo stesso si può ricorrere anche a detergenti leggermente più aggressivi controllate sempre che tipo di di stilografica state usando a quel punto se nulla risolve il problema l'altra cosa è smontarla se non siete capaci a questo punto rivolgetevi a un laboratorio e questo è quanto insomma e mi sembra che non è poco comunque non abbiate paura a fare tentativi certo non con penne di valore di pregio o soprattutto con penne vintage generalmente una notte in ammollo goccia di sapone risolve tutti i problemi se non è così a se avete per esempio penne a stantuffo un'altra cosa che potete fare è caricare e scaricare caricare e scaricare acqua tiepida senza problemi piano piano senza forzare può darsi che il fusto si sia ristretto e quindi ci siano problemi ci potrebbero essere problemi di guarnizione guarnizione si è rovinata col tempo e a quel punto se non sapete come fare inutile che do consiglia alle persone esperte al neofita si trova un attimo in imbarazzo ecco perché le le stilografiche vintage comunque hanno un prezzo da pagare nel senso non di costo economico ma un prezzo che potrebbe essere utile portarla da da qualcuno più esperto di voi sicuramente